Donare il sangue come gesto di affetto per la propria terra, per i sardi, a loro volta dissanguati dalle politiche industriali mosse unicamente dal profitto. Oltre 100 dipendenti di EON si sono assentati dal lavoro per presentarsi davanti alle tre auto-emoteche dell'Avis provinciale di Sassari, sistemate dal primo mattino in Piazza d'Italia. Oltre alla chiara utilità sociale del gesto, lavoratori e sindacati di categoria, tutti presenti, hanno voluto dare uno schiaffo alla multinazionale che ha rinunciato agli investimenti e ha annunciato 120 licenziamenti nella centrale elettrica di Fiume Santo. Il permesso per donare il sangue infatti si giustifica automaticamente con il certificato rilasciato dalle associazioni, ma l'effetto delle assenze sul posto di lavoro è stato più pesante di uno sciopero, senza contare il danno d'immagine subito da EON per l'attenzione mediatica sulla clamorosa protesta. Noi siamo disposti a sacrifici, in questo momento siamo particolarmente disposti a fare sacrifici per i sardi, non per la dirigenza tedesca e quindi questo modo per dire che il sangue, cioè il sacrificio, lo diamo alla Sardegna. Una parte dei lavoratori ha dovuto servirsi addirittura del presidio dell'ASD perché non è stato sufficiente avere tre auto-emoteche. Nel frattempo in azienda non è presente nessuno quindi questo significa che tutti i lavoratori hanno aderito a dare sangue ai sardi e non a un'azienda che non ha rispettato i patti, che ha tradito tutti gli impegni con questo territorio e con gli stessi lavoratori che hanno dato invece grande disponibilità e grande professionalità per i piani di EON. Questa azienda fa del male ai lavoratori, fa del male a questo territorio, se non costruisce il nuovo gruppo a carbone deve andare via.